Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due, magari a qualcuno non gli riesce di fare il glitch da soli e possono fare anche questo che è abbastanza semplice, è veramente facilissimo come glitch e l'importante è seguire i passaggi. Allora per fare questo glitch in primis serve un amico e dobbiamo avere un'auto fuori dalla base operativa o meglio una LG RH8 che deve provenire da un garage che non è la base operativa. Quindi a questo punto ragazzi noi dobbiamo entrare dentro al nostro Avenger e il nostro amico deve entrare con noi, quando noi siamo dentro la Avenger deve entrare insieme a noi nella Avenger. Guardate bene tutti e due i video diciamo. Quindi a questo punto quando noi siamo nella Avenger che cosa dobbiamo fare? Apriamo il menu con la freccia, andiamo su esci dalla base operativa, rimaniamo su questa selezione senza premere X, teniamo premuto il tasto Option e mentre lo rilasciamo dobbiamo premere X. Come vedete a me non è che riesce subito, però riesce, quindi Option e mentre lo rilasciamo premiamo X fino ad ottenere questa schermata. Cosa accadrà quando avremo questa schermata? Che il nostro amico avrà la schermata nera come vedete a schermo. Quindi noi dobbiamo andare o nel lettore multimediale ragazzi se ce l'abbiamo, io in questo caso lo dovevo scaricare e quindi mi sono dovuto arrangiare. Come vedete non me lo dà il lettore multimediale e comunque dicevo o andate nel lettore multimediale o nella raccolta cercate un'applicazione che può essere YouTube, Twitch o quello che volete. Che anche YouTube ovviamente a me non dà perché ho il Game Capture collegato e quindi non mi fa andare su YouTube, però mi fa sospendere l'applicazione. Come vedete ci sospende l'applicazione, torniamo in game e ci butterà automaticamente fuori dalla sessione. Quindi accettiamo il messaggio, detto proprio così ragazzi, e andiamo a respawnare in un'altra sessione. A questo punto, come vedete nello schermo in alto a destra, il nostro amico che cosa farà? Andrà nel party, farà giochiamo insieme e ci andrà ad invitare. Ci inviterà nella sua sessione tramite party perché è l'unica cosa che potrà fare. Quindi una volta che avrà fatto giochiamo insieme, attendiamo l'invito del giochiamo insieme. e quando sarà arrivato l'invito del giochiamo insieme, andiamo a giocare insieme al nostro amico. Quindi andiamo ad accettare l'invito e rientreremo nella sessione ragazzi. Facciamo partecipa mentre il nostro amico rimarrà sempre in schermata nera come state vedendo. E noi rientreremo nella sessione. Quindi attendiamo i caricamenti. Ragazzi, non l'ho velocizzato il video perché purtroppo ho un problema di bitrate. Nel senso che se io faccio il video più alto di bitrate mi diventa un formato più grande e quindi è un problema per me caricarlo visto che ho una rete un pochino lenta. Quindi a questo punto, tornati nella base operativa vi faccio vedere che il nostro amico è ancora buggato dentro la Wenger ed è questo il passo fondamentale perché deve rimanere buggato nella Wenger. Quindi andiamo a vedere Io so che c'è però ve lo faccio vedere anche a voi Come vedete è buggato nella Wenger quindi noi che cosa andremo a fare adesso? Andremo a fare start Online Attività Andremo su Create da Rockstar Missioni Un lavoro da titano E avvieremo la missione Una volta dentro la missione il nostro amico che cosa farà? Andrà nuovamente nel party e farà partecipa a sessione mentre noi rimarremo così in schermata nera Quando avrà il primo messaggio accetterà il primo messaggio quindi in questo caso il nostro amico accetta il primo messaggio e il secondo quando avrà il secondo noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire dall'attività e come vedete il nostro amico potrà sbaggarsi liberamente premerà triangolo e scenderà dalla Wenger ragazzi quindi a questo punto saremo pronti a fare il glitch il glitch è abbastanza semplice andremo alle nostre auto insomma e il nostro amico qui potrà guidare liberamente una delle nostre auto nella nostra base operativa ragazzi quindi saliamo in auto e aspettiamo che arriva il nostro amico insomma Quindi quando il nostro amico sarà arrivato che cosa dovrà fare? Si dovrà mettere dal lato opposto dell'auto qui dove è adesso e premerà triangolo terrà premuto triangolo è l'unica cosa che dovrà fare quindi lo dovrà appiggiare forte quando vedremo che sarà aprendo la portiera premeremo triangolo e scenderà come vedete il nostro amico passerà dalla parte della guida se non vi riuscirà subito provatelo varie volte perché comunque è abbastanza semplice e sarà in grado di guidare liberamente dentro la nostra base operativa e poter posizionare l'auto dove ci permetterà di fare il teletrasporto diciamo nel veicolo quindi a questo punto quando l'auto sarà parcheggiata a mestiere ragazzi vedremo se ci sposterà innanzitutto dalla parte della guida e se ci teletrasporterà come vedete quindi a questo punto noi avremo un'auto fuori che è una LG RH8 come vedete eccola qui ragazzi e la targa di questa auto prenderà la targa di quella LG RH8 che è lì fuori ci metteremo qui faremo comparire la scritta esci dalla base operativa guardando l'auto e premeremo contemporaneamente X e triangolo insieme ragazzi usciremo con l'auto e il gioco è fatto e abbiamo fatto la nostra duplicazione ragazzi è abbastanza semplice allora ragazzi siccome non vi vedo molto attivi sul canale adesso faccio una iniziativa in pratica i primi 5 commenti di questo video cioè non i primi 5 commenti i commenti più belli diciamo i primi 5 commenti più belli che mi colpiranno saluterò queste persone e farò vedere i commenti nel prossimo video ragazzi vediamo se riuscite a commentare un po' di più e essere un po' più attivi tornando al glitch ragazzi chiamiamo il centro operativo che sto cornuto stavolta me l'ha messo un culo al mondo non me l'ha messo davanti alla base operativa entriamo nel nel centro operativo e il gioco è fatto ragazzi a questo punto l'auto potete metterla o in un qualunque garage o la rimettete nella base operativa se avete posto io la rimetto nella base operativa perché altrimenti il video sarebbe stato lungo vi ricordo ragazzi i commenti più belli 5 commenti più belli li saluterò e li posterò nel prossimo video che farò quindi cercate di essere un po' più attivi cercate di colpirmi un pochino di più con questi commenti che che mi farebbe piacere insomma a questo punto ragazzi qui vedete che la sultan c'è però è invisibile ma noi non ce ne potiamo e rimpiazziamo una LG qualunque qui la cosa che dobbiamo fare ragazzi è uscire allora qui potremmo fare 7 auto di fila con questo glitch e il nostro amico si dovrà baggare solo una volta per 7 auto però io adesso ho finito il glitch perché volevo duplicare solo un'auto e quindi va bene così dico al mio amico di lasciare la sessione e lascia la sessione e quando rientro nella base operativa l'auto che era invisibile è diventata visibile se invece volete duplicare più auto basterà ripetere il glitch ovviamente dovrete avere più LG dentro la base operativa e ripeterete il glitch ragazzi è abbastanza semplice come glitch non è difficilissimo quindi che altro dirvi ragazzi ci sono due glitch potete approfittare o di uno o dell'altro fate voi detto questo un saluto a tutti al prossimo video ma che mi sono la tua mia wow